ma si ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta si no ciao tutti gamers bentornati sul canale di giochi next gen ragazzi come avrete capito dalla brevissima anteprima siamo sul secondo livello di del gioco di quei due bastardi sul servo volete qui vede sta già rotolando il secondo livello quindi andiamo a iniziare questo secondo livello sperando di non sclerare troppo ragazzi eccoci qui nel secondo livello non mi ricordi tassi anzi ecco ragazzi iniziamo dice una nuvola mi guarda male ma già il cazzo e manager cazzo iniziamo ragazzi si qui mi contegge le morti anche del primo video anzi era proprio partito che andiamo mi cercherà questo figlio di puttana questo è no ma porca puttana ragazzi non riesco ad andare avanti neanche all'inizio portiamo già male vediamo di quanto ma ecco qua ce lo fa vediamo ora un mio dio che cazzo no ragazzi ma cos'è sta roba no no ho appena iniziato e sto già scelerando ora quello abbiamo capito come fare scappiamo io devi scappare ragazzi così si si scappiamo via non mi piace attenzione ragazzi adesso ma merda o merda no no ti prego no 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 ti prego no no ok no di abilità no abbiamo ora si ce l'ho fatto ragazzi allora subito cazzuti cattivi che mai va impianto guardando o meno ti prego no come mai passate nel senato ragazzi fatto anche questo no eh la fregna di mammite ragazzi è un gioco veramente bastardo era questo il punto ok ragazzi madonna mia guardate qua ma guardate quanti ne cadono ma ma non lo so sono qui della porfora di ma gioglio ragazzi forse ce l'ho no ti prego no ragazzi ce l'ho fatta attenzione preso il primo checkpoint ragazzi incredibile dopo non so quante morti 117 quindi non lo so abbiamo preso il primo checkpoint andiamo avanti ragazzi qui non mi piace perché ce l'ho ragazzi non mi piaceva secondo me dobbiamo fare così ma niente ragazzi vaffanculo ma che cazzo vuol dire allora ragazzi la luce mi protegge non è un pericolo ah ecco ma no ad andare avanti no 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 ce l'avevo fatta ragazzi attenzione no la fregna di mamita eh la fregna di mamita si ragazzi è veramente da sclerare io non so quante morti ci metterò maledizione maledizione ragazzi io non so veramente ragazzi non so chi abbia ideato i loro due o sottotitoli insieme questo livello ma è veramente bastardo più del primo molto più del primo eh sti cazzi ragazzi niente da fare ma perché non cambi personaggio quindi probabilmente devo provare così nervo vediamo andiamo avanti qua uno e due l'abbiamo fatto poi qua vediamo uno due e ora niente ragazzi niente non mi danno neanche il tempo di andare veloce perché mi ammazzano e non so più che fare lì una mamma te lo dico io niente ragazzi niente di niente sto morendo 800.000 volte sempre nello stesso maledetto dannato punto porca di quella troia ok ragazzi attenzione luce via no ma ragazzi veramente ragazzi no ragazzi no cioè non ci siamo proprio non ci voglio credere non ci voglio credere non ci voglio credere vaffanculo anche perché ragazzi fermarsi non è la soluzione che tanto vi fermate o no i vetri con la distanza la raggiungono uguale è la stessa distanza se vi fermate o meno vediamo vedete è la stessa cosa ragazzi o vi fermate o no vi raggiungono nella stessa velocità è una stronzata quella della luce ecco qua ragazzi devo fare probabilmente il doppio salto per salvarmi attenzione ragazzi attenzione ce l'ha fatto no ce l'avevo fatta no ragazzi ho preso impegni per le prossime ore perché non so quanto durerà questo video di questo passo ma si ma si quota 200 morti vai tanto ma si 201 chi se ne porta non ha più non è normale ragazzi qui devo evitare quel bastardo ok qui no ragazzi no vabbè ragazzi no no cioè è impossibile ragazzi forse forse no ce l'avevo quasi fatta ragazzi qua bisogna andare avanti saltare qua dovete fare il doppio salto qua con sinergo magari provare a correre qua saltare di nuovo qua con sinergo fare così e poi ancora sinergo qua cambiate con Redez e no 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 qua ancora sinergo allora via su tutora via via qua Redez era ragazzi i vetri sono velocissimi no non ce la faccio più basta ok qua ce l'abbiamo fatta attenzione attenzione via 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 no vabbè ragazzi ma sono più cioè i vetri non ti danno possibilità di vincere via 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 neanche la luce mi sto iniziando veramente scocciare poi cambiamo correde no e vaffanculo ragazzi questi vetri di merda saltiamo uno sentiamo e vaffanculo si vaffanculo si riproviamo ragazzi doppio salto doppio salto niente saltiamo ancora luce doppio salto troviamo personaggio andiamo avanti saltiamo il cavallo di merda ancora qui saltiamo 1 saltiamo 2 3 4 red ex fanculo ragazzi è impossibile è difficilissimo via 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 cambio personaggio doppio salto doppio salto abbiamo ancora qui ragazzi attenzione attenzione ce la possiamo forse fare no ragazzi vabbè ma non mi mollano mai sti vetri di merda cambio cosi nervo viene avanti attenzione fanculo che subito su si nervo si cambia correde ok ragazzi attenzione è successo qualcosa si sono bloccati non so come abbiamo fatto ma li abbiamo bloccato qua ragazzi devo preparare il salto che è il doppio e siner così speriamo ragazzi attenzione che cazzo succede ragazzi no che cosa sì ragazzi dopo 800 mila volte ho completato il livello ce l'ho fatta ragazzi il secondo livello lo abbiamo completato non chiedetemi come ma finalmente lo abbiamo completato eccolo qui quindi ragazzi questo livello si conclude e con questo anche l'episodio del secondo livello di quei due bastardi sul server siete due veri bastardi qui magari nel frattempo ti smuvi perché mi hai rotto c'è il cazzo con questo timer che mi va nelle orecchie ok ragazzi con questo si conclude il secondo livello e quindi il secondo video random di questo sabato del gioco più due bastardi sul server se volete sabato vi porto il terzo episodio con il terzo livello lasciate un commento ditemi se vi sta piacendo mi raccomando lasciato un like se non avete fatto ragazzi iscrivetevi al canale e io vi ricordo che lunedì porto pes e mercoledì porto fifa qui sotto come sempre trovate tutti i miei social pace qui stanno eccetera eccetera quindi se non siete alcuni siti passate anche dalle mie pagine qui dal genio 83 ci vediamo sabato prossimo e ciao che ciao ciao ciao